Candidare Svinea, città europea dello sport, per l'anno 2023 è un elemento di grande orgoglio per l'intera città. Abbiamo vissuto questa esperienza fin qui, fino alla candidatura, con estrema serietà, ma anche con estrema coesione sociale, quella coesione di tutte le nostre associazioni sportive, ma non solo. Il commercio e si può dire l'intera città, scuole e famiglie complete. Questo rientra fra quelli che sono gli elementi principali di una vera città moderna, perché noi vogliamo essere così segno di identità per questa città alle porte di Venezia, caratterizzata però da una grande densità abitativa che è in grado di offrire importanti servizi. Quello che noi vogliamo essere è testimonianza soprattutto di quell'identità che costituisca orgoglio per tutti i nostri giovani e quindi che diventi assolutamente lo sport, fondamento, agenzia educativa in quest'era di grandi problematiche e grandi sfide.